Ragazzi, quindi adesso portiamo uno dei più popolari di Game Pass, cioè Forza Horizon 4. Ora adesso io vi spiego perché fanno l'unica lingua. Praticiamo la lingua. Se voi andate all'estero in tutti i paesi, conoscono l'inglese. Io sono in Filippina, la seconda lingua è l'inglese. Ma quando venite in Italia, è difficile di trovare altre persone che sapete. Quindi questo ci lascia un po' furi da certi... da certe... di lavorare, perché non si è riuscita, perché non si è riuscita, perché non si è riuscita come questa acqua qui. Perché comunque, se voi parlate in italiano, avete la possibilità di collegarvi con 64 milioni di persone, cioè l'Italia. Ma se parlate in inglese, avete la possibilità di parlare in inglese. Parla di inglese. Vi connetevi con 3 miliardi di persone. Adesso capite se io faccio l'unica inglese? Beh, perché faccio due opzioni con un affatto. Inconnetto con più persone nel mondo, internazionale, e poi magari qualche italiano lo sprono a imparare l'inglese. Per il vero e per il vero e per inizionare il nostro futuro. Per quella la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa. E poi la ultima di noi è professore. La cosa, la cosa, la luce. E' un'altra parte. E' un po' di scopo, da l'inizio, fino alla fine. E' anche se c'è un rally, perché mi piace anche i video game rally. Grazie a tutti cosa facciano i videogames molto lavoro per il mio canale costo 500 videogames il eliminatore questo è il più popolare in Game Pass vediamo il prossimo trailer c'è un romantico McLaren queste sono tutte in 4K questo è perché c'è un pozzo c'è un pozzo c'è un pozzo 4K c'è un pozzo c'è un pozzo in 4K c'è un pozzo 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 un pozzo c'è 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 un pozzo che tu devi avere la licenza di guidare e ovviamente gioco anche Gran Turismo gioco anche Gran Turismo di PlayStation 1 bellissima e un buggy un certo gioco un motociclo wow bello 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 abbiamo tre trailer anche questi sono tutti in 4K quindi abbiamo un piccolo buffer un motociclo questo è il motociclo il motociclo è questo il rally il rally è il rally il caro fuori il carro fuori il caro fuori il caro fuori il caro fuori il amico di Mr. Bean il caro NASCAR il caro fuori di possono il caro fuori il caro fuori l'amico di un cab di gioco l'amico di B E' uno dei migliori video games Oggi Oggi Ora funziona Forza Motorsport 7 Però questo è ancora E' super cool Grazie a tutti per aver guardato A presto A presto Ciao ciao